Un rigore di Mariani nel primo tempo regala al Monte Giorgio il derby di Civitanova contro la Sangiustese e se i tre punti consentono al team di Valdassarri di blindare definitivamente il discorso salvezza, la settima sconfitta consecutiva acuisce sempre più la crisi di una Sangiustese in caduta verticale. La gara è stata lo specchio dell'ultimo periodo della stagione rosso-blu. Tanta volontà, discreto gioco, ma tiri in porta ed occasioni, merce rarissima, con un segnale di impotenza davvero evidente. Il contrario di un Monte Giorgio sornione che ha lasciato ai locali la supremazia territoriale del match, ma molto più pericoloso nella fase offensiva e bravo nel saper soffrire nel finale di gara. Cronaca, gara per pochi intimi al Polisportivo con rumorosa rappresentanza ospite, Sangiustese priva di Mengoni e Fabri, con Mercorelli ancora titolare tra i pali invece il Monte Giorgio. Buon avvio dei rosso-blu locali al terzo azione della Sangiustese con De Cerchio che conclude da buona posizione, tiro deviato in corner. Replica pericolosissima ospite, undicesimo Pampano smarcato davanti a Chiodini viene stoppato dal portiere rosso-blu. Sul proseguimento dell'azione, conclusione di Mariani, respinta sulla linea dai difensori locali. Sangiustese più brillante e volitiva, ma senza mai tirare in porta. Ospiti invece sempre in seriosi quando spingono in avanti, ventiquattresimo cross di Mariani, palla che arriva alla fine a Trellini che con lo specchio della porta spalancato calcia sopra la traversa. Al ventisettesimo arriva il rigore per il Monte Giorgio che decide la partita. Cross di Mariani intercettato con il braccio da Zannini in area di rigore, per il signor Mallardi e Penalti che lo stesso Mariani trasforma per l'1-0 ospite. La reazione della Sangiustese in una supremazia sterile senza avere occasioni da rete. Anzi, ancora il Monte Giorgio al quarantatresimo pericoloso. Splendida punizione di Trellini, palla che accarezza solo l'esterno della rete. Squadre che vanno così a riposo con ospiti avanti 1-0. Riprese non cambia il fin della partita con la Sangiustese a fare la gara, ma senza trovare sbocchi. Monte Giorgio in controllo senza affanno, anzi all'ottavo è bravo Chiodini a bloccare la bella conclusione di Ingiambè. Inizia la girandola dei cambi al ventunesimo, punizione di Pomiro. Mercorelli non trattiene ma poi è bravo a stoppare il tentativo di Basconi sulla ribattuta. Spinge la Sangiustese alla disperata ricerca del pari, Monte Giorgio che fatica a ripartire. Trentottesimo, angolo di Pomiro, stacca di testa Presmans, senza esito. Collezionano angoli rosso-blu con coefficiente pericolosità però sempre troppo basso. Quarantasettesimo, rinvio di Ferrante, ci prova Zannini, Mercorelli alza sopra la traversa. Finisce così con il successo del Monte Giorgio festeggiato dai suoi tifosi e l'ennesima domenica di passione per una Sangiustese sempre più nel baratro. Mister Baldassare, arrivata questa vittoria qui a Civitanova contro la Sangiustese, possiamo dire che la Sangiustese ha fatto più la partita e le occasioni le ha avute più il Monte Giorgio? Sì, sapevamo. La Sangiustese è vero che adesso è un po' in difficoltà però ha i mezzi e la squadra secondo me per fare bene. Però è anche vero che il primo tempo se segnavamo più di un gol magari la partita si sarebbe gestita un po' meglio. Abbiamo un po' sofferto il secondo tempo però è la prima volta che ci capita e almeno ultimamente però dai alla fine l'abbiamo portato in porto. Era importante fare il risultato perché avevamo bisogno di questi punti e adesso vediamo il proseguo quello che ci aspetta. Nel finale un po' schiacciati facevate fatica a ripartire? Sì, anche perché avevamo tre o quattro giocatori che in settimana non si sono allenati tanto però hanno dovuto giocare perché in questo momento abbiamo qualche assenza importante però dai alla fine siamo riusciti a tenere questo importante. Archiviato il discorso salvezza, adesso c'è la vista sui play-off? No, il discorso salvezza non è archiviato perché se avete visto i risultati dietro hanno vinto tutto. Il Cattolica addirittura mi sembra 4-0 a Fugge quindi noi dobbiamo stare ancora attenti, è chiaro che le partite bascono, la classifica noi siamo abbastanza tranquilli però dobbiamo fare ancora quei punti per salvarci quindi dobbiamo stare ancora concentrati. Mister Roscioli possiamo dire che questa partita è un po' l'immagine della situazione del momento della San Giustese, tanta buona volontà, tanto impegno, poche occasioni della rete e poi arriva questa sconfitta. Sì, hai fatto un'analisi giusta, io non posso che non fare i complimenti alla squadra perché oggi onestamente abbiamo fatto, cioè quello che proviamo facciamo in allenamento, quello che Montesiorgio è una squadra rognosa, ostica, rognosa, ostica lo sapevamo. E' ovvio che c'è delusione però ripeto noi stiamo facendo un nuovo percorso e bisogna essere fiduciosi su quello che stiamo facendo. Oggi penso che, voi avete visto la partita, penso che, non so, se la sconfitta oggi non è assolutamente meritata. Abbiamo concesso due balle il primo tempo sui nostri errori di impostazione perché poi il calcio lo devi decidere se giocare e fare tu oppure far fare gli altri e tu aspettare e ripartire. Quindi il calcio è semplice, non bisogna farlo tanto complesso. Noi dobbiamo ovviamente fare gol e quindi ovviamente dobbiamo proporre noi un po' di calcio. Quindi abbiamo fatto due errori e sono arrivati al tiro loro. Poi il rigore che poi, sai, non posso giudicare. Posso giudicare solo che l'arbitro sinceramente oggi sul metro di giudizio dell'ammunizione usciamo con sette ammunizioni noi e una loro. Adesso ditemi voi, una squadra che ha proposto il 65-70% possesso palla che prende sette ammunizioni. Gli altri falli da mano, ripartenze, poi l'avete visto. Poi al di là di questo non è una scusante perché poi non è che, però sai, quando stai sotto poi, come si dice, è più facile. Vengono qua, stanno sotto, gli diamo come dice la botta di grazia. Non lo so, faccio magari a caldo dico questo, poi ragionandola rivedrò la partita, dirò altre cose. Però noi sicuramente abbiamo fatto più azioni domenica scorsa, è un passettino in avanti perché abbiamo tirato in porta oggi, questo c'è da dirlo, adesso al di là di tutto c'è da lavorare e ovviamente siamo noi i primi, dobbiamo essere fiduciosi e dobbiamo trasmetterlo alla squadra.